Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il titolo della mia presentazione nell'ambito di questa giornata dedicato all'equità del sonno per la salute globale è proprio il sonno nei rifugiati e nei migranti. Quindi parliamo di un argomento molto attuale, anche se l'aspetto del problema del sonno in queste persone che vivono questa particolare esperienza non è così ben affrontato e vedrete che in realtà è un aspetto comunque rilevante nell'ambito del dramma che spesso queste persone già devono affrontare. Dunque, innanzitutto sappiamo come ormai questi sono i dati appunto dell'United Nation, dell'Alta Commissione per i Rifugiati, ma questo è un dato estremamente rilevante in termini di numeri, numeri che stanno aumentando enormemente negli ultimi anni. al momento si presume che circa 110 milioni di persone nel mondo sono spostate dalle loro abitazioni originarie per varie cause, per conflitti, persecuzioni, violenza, alcuni spostati all'interno del loro paese, alcuni spostati in paesi anche molto lontani. e molti di questi rifugiati sono a loro volta ospitati da paesi a basso livello economico, sociale. Se vedete questo grafico qui sulla destra si può notare come ci sia stato veramente un aumento molto marcato, un raddoppio del numero di queste persone che vivono queste esperienze negli ultimi anni, e come solo una piccola parte di questa popolazione possa poi rientrare nelle loro case. e sicuramente le persone, i rifugiati, le persone sottoposte in questa condizione sono stati esposti, chi più che meno, a delle drammatiche situazioni di trauma nella fase prima della migrazione, durante la migrazione stessa e anche nel momento in cui arrivano nel paese appunto che li accoglie. non sempre l'accoglienza, come ben sappiamo, avviene nella maniera più corretta. Alcuni paesi fanno il possibile per dare il massimo a queste persone in altri paesi. La migrazione rappresenta di nuovo un ulteriore trauma. E per cui questo è un aspetto che va a influire notevolmente poi sulla salute di queste persone. consideriamo anche che molti sono i giovani anche che si trovano in questa condizione. E riguardo all'aspetto, al di là appunto di tutto questo aspetto sociale c'è sicuramente un aspetto di salute generale che riguarda queste popolazioni. Innanzitutto, come vi ho detto, circa due terzi di questi rifugiati vivono in paesi a basso livello socio-economico quindi con poco limitato accesso a cure mediche e in queste popolazioni varie studi hanno mostrato specialmente nei più giovani come siano frequenti le patologie generali, croniche come sia veramente difficile avere accesso a cure mediche anche per aspetti culturali che spesso impediscono una diagnosi precoce non c'è soltanto l'aspetto economico e anche nei paesi a più alto livello economico sociale è difficile comunque per i rifugiati arrivare ad ottenere delle cure mediche rapide e adeguate. Su questo giocano vari fattori le difficoltà di comunicazione quindi tutte le barriere linguistiche ma anche degli aspetti culturali la percezione di quello che può essere un disturbo e delle implicazioni di questo disturbo sulla qualità della vita dei rifugiati stessi. E uno degli aspetti che è diventato sempre più rilevante è quello della salute e oltre che generale della salute mentale che come potete ben capire è uno dei punti dove viene ben colpito la persona che si trova nella condizione di rifugiati. Su questo ci sono infatti vari studi che mostrano come soggetti che vivono la condizione di rifugiati si ritrovano ad alto rischio di patologie psichiatriche con vari fattori di rischio importanti alcuni sono proprio anche quelli che possiamo trovare nella popolazione più generale per esempio l'età avanzata aumenta il rischio il sesso femminile è più a rischio di sviluppo di disturbi psichiatri in particolare il disturbo post-traumatico da stress che è sicuramente il disturbo più frequente in queste popolazioni. Anche a un basso livello culturale è un fattore di rischio il numero di traumi l'abitudine a essere esposte a una condizione di guerra quindi un'esperienza di conflitto quanto è durata la migrazione stessa cosa succede nel posto in cui i soggetti arrivano è una condizione ulteriore di stress la presenza o meno di un'impossibilità di lavoro in questi soggetti il supporto sociale che viene dato essere soli o far parte comunque di una famiglia anche durante la migrazione la presenza come possiamo immaginarci di precedenti patologie psichiatri quindi tutti i fattori che valgono nella popolazione generale e che qui sono ulteriormente importanti e agiscono come fattore di rischio specialmente nei bambini bambini che si trovano in famiglie in cui il disturbo psichiatrico è particolarmente accentuato sono a loro volta a maggior rischio come possiamo aspettarci nella popolazione generale ma tutto è estremamente accentuato e tra questo c'è anche sicuramente il problema sono di questo è sempre uno pensa ma tra tutti i problemi che possono avere queste persone forse il sono non è più rilevante non è assolutamente così prima di tutto sui vari giornali nazionali e internazionali si vede spesso le condizioni in cui i rifugiati sono costretti a dormire condizioni che sicuramente non favoriscono un buon sonno e condizioni che sicuramente non favoriscono una buona anche salute fisica generale e mentale quindi pur cercando di garantire a queste persone l'ospitalità spesso è molto difficile anche nei paesi che più si impegnano in questo settore per cui è inevitabile che le condizioni in cui il sonno avviene in queste popolazioni spesso è una condizione assolutamente disagiata e allora pur non essendoci grandi lavori numerosi lavori in letteratura scientifica quelli presenti e c'è stata anche di recente una pubblicazione su neurologi una meta-analisi una analisi sistematica della letteratura che mostra come i disturbi del sonno in realtà siano molto frequenti in questa pubblicazione in particolare l'insonnia e in particolare gli incubi poi vedremo come questo è un po' anche un matto un segno clinico importante per il disturbo post-traumatico da stress con delle prevalenze che come potete immaginare dipendono dalla persona coinvolta dal rifugiato alla condizione in cui è partito e in cui è arrivato ma con frequenze comunque molto alte che vanno dal 32 al 73% e i fattori di rischio per l'insonnia sono di nuovo l'età avanzata e un ridotto accesso a cure o la mancanza di un impiego di un impiego lavorativo quali sono però i fattori di rischio naturalmente più rilevanti qui come poi sottolineeremo ancora più avanti c'è un legame molto stretto con il disturbo post-traumatico da stress il trauma l'esposizione alla violenza il conflitto il ritrovarsi in condizioni completamente diverse da quelle della propria abitazione nei propri stili di vita crea sicuramente uno stress uno stress è un trauma che può essere più volte ripetuto come spesso vediamo in queste popolazioni e questo trauma si associa immediatamente a un disturbo del sonno il disturbo del sonno come poi vedremo è poi a sua volta in una maniera bidirezionale correlato al disturbo post-traumatico e nei bambini come vi dicevo la qualità del loro sonno è direttamente correlata come dice la letteratura a quanta violenza alla violenza a cui sono stati esposti i genitori e la famiglia intera e alla salute mentale dei genitori stessi altri fattori come dicevamo sono la possibilità di dormire in un luogo in un luogo sicuro e in un luogo adeguato essere isolati il sempre come capita in questi studi il basso livello socio-economico e il basso livello di educazione è un ulteriore fattore di rischio e spesso naturalmente questi sono entrambi estremamente fattori molto frequenti in queste popolazioni ma naturalmente anche il posto in cui questi soggetti si ritrovano a dormire e la presenza del disturbo del sonno nei rifugiati va a sua volta poi da quello che dice la letteratura ad alterare la capacità di integrazione di queste popolazioni se vogliamo anche la loro produttività e quindi in qualche modo accentuando ulteriormente la condizione lo stigma anche se vogliamo della condizione del rifugiato ma sicuramente l'aspetto rilevante è il disturbo post-traumatico da stress tra i vari sintomi del disturbo post-traumatico da stress c'è sicuramente la difficoltà di inizio di mantenimento del sonno la presenza di incubi di sogni in cui il trauma viene rivissuto molte delle terapie appunto dedicate al trauma lavorano proprio su questi aspetti ed è sicuramente quello che è più comunemente correlato col disturbo del sonno in particolare gli incubi sono correlati col disturbo del sonno e sono correlati in una maniera bidirezionale così come la gravità del disturbo post-traumatico da stress è inversamente correlato con la durata del sonno tanto meno il soggetto dorme tanto più accentuato il disturbo post-traumatico da stress che può come sappiamo avere delle percussioni anche per lungo tempo in maniera cronica e alterare completamente la possibilità di vita di integrazione del soggetto ecco il gruppo che ha lavorato di più su questi aspetti è il gruppo dei danesi in particolare vedete c'è Polienno per chi si occupa di sonno conosce bene hanno condotto vari studi sui rifugiati dove accentuano appunto questa forte relazione tra disturbo post-traumatico da stress e la condizione di rifugiato e sicuramente gli incubi e le difficoltà di addormentamento sono uno degli aspetti più rilevanti hanno come vedete il 70-90% dei pazienti con disturbo post-traumatico da stress hanno incubi sintomi dell'insonnia particolare difficoltà di addormentamento ma anche risvedi durante la notte e questo disturbo del sonno è qualcosa di estremamente rilevante nella sintomatologia clinica generale di disturbo post-traumatico da stress quindi il disturbo del sonno non è semplicemente un effetto una conseguenza di disturbo post-traumatico da stress è chiaro come ci sia questa situazione bidirezionale come si crea spesso questo circolo vizioso per cui l'incubo e la frammentazione del sonno agiscono in disturbo post-traumatico da stress per cui gli autori stessi come dice già la literatura anche in altri ambiti migliorare le caratteristiche del sonno le qualità del sonno nei soggetti con disturbo post-traumatico da stress può costituire un fattore modificabile per migliorare appunto il disturbo stesso non è solo una questione di frammentazione del sonno o di incubi è anche un'alterazione del ritmo circadiano e possiamo immaginarci bene come i sincronizzatori sociali possono essere alterati nei soggetti rifugiati che vivono anche in certe condizioni per cui uno degli aspetti anche che è particolarmente rilevante è anche l'organizzazione ritmica che qualche volta è anche diversa da quella del paese in cui il rifugiato si trova per questioni culturali quindi intervenire anche su questo aspetto è stato dimostrato essere un qualcosa di molto rilevante ed è chiaro che però per intervenire in un aspetto come quella della regolarità circadiana come potete bene immaginare c'è tutta anche una problematica sociale economica di come questi soggetti dove dormono quanto siano integrati anche dal punto del lavorativo delle loro attività nel paese che li ospita sono stati fatti anche degli studi polisonografici questo è sempre il solito gruppo dove mostrano che da un punto di vista soggettivo il disturbo del sonno è evidente a tutti i livelli quando si arriva a studiare dal punto di vista polisonografico l'aspetto più rilevante è principalmente una quantità di veglia in flosonno aumentata e dell'alterazione dei parametri re in particolare sulla mettenza del sonno re per cui appunto il disturbo post-traumatico da stress l'evento traumatico in sé può causare un disturbo del sonno un'insonnia attraverso diversi meccanismi la paura stessa di addormentarsi nel luogo il pericolo ma anche tutta una serie di comportamenti maladattivi di cui abbiamo discusso molte volte quando si parla di insonnia possono portare a una forma di insonnia che poi diviene cronica sappiamo tuttavia questo l'abbiamo discusso tante volte come questo circolo sia una relazione in realtà un circolo bidirezionale in cui il disturbo del sonno attraverso vari meccanismi tipo cognitivo ma anche umorale possa poi favorire il mantenimento del disturbo della paura del disturbo post-traumatico e dell'insonnia stessa quindi per quanto possa sembrare un fattore non così rilevante prima di tutto da un punto di vista umano garantire un sonno adeguato ed uno spazio per dormire adeguato delle condizioni adeguate è rilevante come così è rilevante anche intervenire sul sonno quindi è chiaramente evidente anche che bisogna intervenire non solo per l'aspetto salute mentale ma ci sono appunto come vedete da questo lavoro dei dati anche recenti che mostrano come questi soggetti rifugiati hanno un aumentato rischio di patologie cardiovascolari un'incidenza di patologie cardiovascolari che è 1.7 più alta rispetto a quella di una popolazione di controllo e sappiamo bene come una deprivazione di sonno un'alterazione del sonno possa avere effetti molto rilevanti non solo per la salute mentale ma anche per la salute fisica in particolare per il nostro sistema cardiovascolare e le nostre funzioni immunitarie quindi prendersi carico di disturbo del sonno anche in questa popolazione nettamente più a rischio di patologie psichiatriche e di patologie cardiovascolari è un aspetto sicuramente rilevante quindi è qualche cosa ci sembra molto lontano ma sottolineiamo l'importanza come vi dicevo sia sociale di garantire un sonno adeguato e l'importanza anche di avere un aiuto per queste persone che prenda in considerazione questi aspetti sicuramente abbiamo delle barriere linguistiche abbiamo delle barriere culturali e queste vanno messe in conto bisogna quindi in qualche modo creare delle competenze anche in questo settore sappiamo come molti psichiatri siano dedicati proprio a questo tipo di disturbi in queste popolazioni ma ci vuole appunto un'equip che riguarda anche tutte le varie figure che possono intervenire nell'aiuto di queste persone e sicuramente un'educazione anche un aspetto culturale per queste popolazioni al riguardo di garantire un sonno di qualità buona possa migliorare anche la loro salute fisica e mentale quindi sicuramente è difficile ma è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione in futuro concludo giusto con questa slide per l'altro aspetto quello dell'immigrato della condizione di essere immigrato qui naturalmente seppur a livelli minori si possono vivere situazioni simili a quelle dei rifugiati questa può essere anche una condizione che tra virgolette può passare molto liscia ma c'è un aspetto appunto quello che viene chiamato anche l'Hispanic paradox cioè qualche volta le popolazioni immigrate quando si integrano cominciano a avere dei gravi disturbi del sonno degli importanti disturbi che riguardano la loro salute generale quindi questo cosa vuol dire chiaramente che c'è anche questo aspetto cioè il cambio di uno stile di vita una volta che si giunge nel paese che ci ospita può modificare i nostri ritmi i nostri ritmi circadiani può modificare i nostri stili lavorativi può modificare il nostro adattamento allo stress e qualche volta non hai detto che questa integrazione abbia immediatamente un effetto positivo sulla nostra salute anche qui si passa attraverso un aspetto direi più culturale ed educazionale e probabilmente richiede molto del tempo ma rende la situazione ancora più complicata bene vi ringrazio molto della vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di questa maratona e vi auguro che ci sono Grazie a tutti.